Dall'esperienza del territorio, un impegno per la gente. Mariella Garofalo, per portare in Europa le ragioni del nostro territorio, a sostegno del turismo, dell'agricoltura di qualità, per la tutela della piccola e media impresa. Mariella Garofalo, consigliere comunale a Vittoria, medico-diabetologo, impegnata nel volontariato e nell'associazionismo. Mariella Garofalo, una priorità su tutte, combattere il precariato per dare un futuro ai giovani siciliani.